Benvenuta nella nostra nuova casa, un ambiente senza predatori. Te lo devo concedere, Timon. Questo posto ha tutto ciò che si può desiderare. Beh, ce l'ha ora che siamo tutti qui insieme. La gru distende le sue ali e ruota sulle sue delicate zampette. Non dovrò scavare una dana, quella che la condonerà. C'è il timono che ci proteggerà, sull'interno di qualità. È un romantico palazzo, con la carta ho perso. Sì! Ha salvato la situazione. Sì, lo so, sono un cervellone. E ha ridato tutti gli stai, nella strada che la vive. Chiareremo a tutto se, un ero come lui non c'è. Beh, ecco qua, siamo al dietro fine, al quadro conclusivo, al gran finale. Come? È già finito? Eh, Pomba, è tipico del finale, che arriva sempre alla fine. Oh, possiamo guardarla da capo. Pomba, l'abbiamo appena visto. Magari domani, d'accordo? Ehi, che state facendo qua? Ma non mi avevate detto che guardavate il film? Voglio vederlo anch'io. Mamma, abbiamo appena finito di vederlo, lo spettacolo è finito. Beh, devi solo riavvolgere il nastro. Mamma! Zio Max, vieni, guardiamo il film. Ti ho messo una reazione doppia di burro. Ehi, state guardando il film? Una storia che merita, va raccontata due volte. Ma che cosa? Oh, permesso. Permesso, 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 permesso. Levati dai piedi. Cos'è questo affollamento? Ehi, state giù lì davanti. Oh, oh. Allo, ah! Sì! Che bella! Attenti! Ok, amico, hai vinto tu. Sicuro che non ti dispiace? Hakuna, patate. Scusa. Sai, Timon, continuo ad avere qualche problemino tra la folla. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.